Ampadu, grande apertura per Rezza in area, Rezza, Arkadius, Rezza, 1-0 Spezia, la confezionano due difensori, grande discesa di Ampadu che vede Rezza, era rimasto su e fa male, colpisce Arkadius, Rezza Fala centrale per Vlasic, che si gira, va dove ci sono due compagni, raccoglierà Donic dentro per voi Voda, zona cross, eccolo dentro, si gira Vlasic, in un attimo, fa 2-0, Vlasic quarto gol in campionato per Vlasic, che si gira velocissimo su questo assist di Voivoda ha lo spazio per farlo, arriva tardi a chiudere Colley e girandosi Vlasic riesce a mettere il pallone sul secondo palo Il golo! Il golo! Inbucata per Di Marco, lascia sfilare il pallone, Di Marco col sinistro! All'angolino, perla di Federico Di Marco, doppietta personale per il numero 32, 4-1 Inter in avvio di ripresa Uno contro uno, vinto con Sosa, fa passare il pallone poi alle spalle di Sumauro e Skorupski non riesce ad intervenire L'Oriente, è sempre una scheggia, ci arriva e poi da sotto misura la zaffata straordinaria Andrea Pinamonti, gol da bomber autentico Andrea Pinamonti Terzo gol in campionato per Pinamonti con l'esterno destro Pinamonti fa un gol d'autore Dzeko, Dufris, Liko, Yannis col contrasto Poi Dzeko! 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 Super gol! Ed il Dzeko, 1-1 C'è coordinato alla grande, mirando all'angolo, riesce a battere Skorupski E' parità a San Siro Quarto gol in campionato per il Bosniaco Questa è una perla dell'ex Roma sul cross di Dufris Dzeko è bravissimo a dosare il piatto per andare a gonfiare la rete sul palo lontano Che gol di Edin Dzeko! E' parità a San Siro